Operazione Legno Tarlato è il nome che le fiamme gialle di Vicenza hanno dato alla corposa indagine che ha visto protagoniste nove imprese operanti nella commercializzazione di bancali in legno. Complessivamente è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di oltre 1.200.000 euro. Ad avviare le indagini la compagnia della Guardia di Finanza di Schio, che nel 2019 aveva operato un controllo fiscale nei confronti di due ditti individuali che sarebbero risultate evasori totali o paratotali nel periodo sottoposto ad ispezione. A ritroso l'indagine aveva permesso inoltre di risalire ad altre operazioni fraudolente che avrebbero coinvolto altre sette imprese localizzate in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un totale di 3.800.000 euro per l'emissione di 317 fatture false per operazioni inesistenti che sarebbero state effettuate dal 2014 al 2019. Tutte le aziende si occupano del ritiro di pallets usati a titolo gratuito per poi rivendere dopo averli riparati. Questo passaggio di mano permette il meccanismo dell'inversione contabile per cui l'IVA non viene adebitato in fattura ma va integrata dall'acquirente. Una attività ad alto valore aggiunto che in virtù dell'eseguità dei costi iniziali permette all'aziente, annotando elementi negativi fittizi, di essere in grado di abbattere l'imponibile fatturato ed evadere così le imposte dirette. La Procura della Repubblica di Vicenza nel 2020 aveva dato mandato di eseguire 24 perquisizioni locali che hanno permesso di acquisire parte della contabilità appurando le irregolarità fiscali. Complessivamente sono indagate nove persone fisiche per i delitti di emissione di fatture, per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di scritture contabili.